Non c'è pace per Via Lioni, arteria strategica di contrada segnazza attraversata ogni giorno da centinaia di mezzi. Dopo i danni legati all'alluviona del 25 novembre scorso, che sono sempre lì, solo negli ultimi giorni si è aperta una nuova buca sull'asfalto. Niente di nuovo da quelle parti potremmo affermare. Peccato che i titolari delle attività commerciali e residenti non passi settimana che non contattano la nostra redazione per denunciare la situazione della viabilità in Via Lioni, diventato ormai insostenibile. È impercorribile dalle troppe buche ed eccedimenti all'asfalto ormai quella strada e i telespettatori chiedono che su Via Lioni la si smetta, quando ciò accade, di intervenire con sistemazioni tampone si inserisca invece la strada in un più ampio progetto che prevede il totale rifacimento delle condotte idriche e fognarie e la successiva e definitiva bitumatura. Restiamo in zona dove, dopo le incestanti piogge di questi giorni, tornano a lamentarsi i residenti di Via Bagnoli. Sono rimasti nuovamente al buio, è tornato a staccarsi l'impianto e dopo un primo intervento per la riattivazione del successivo nuovo blocco, adesso da tre giorni le abitazioni di Via Bagnoli sono nuovamente al buio, con il pericolo neanche a dirlo per la sicurezza propria e dei propri beni. Ci spostiamo in Via Giotto, la buca che si era presentata all'indomani dell'alluvione, poi sistemata, è tornata ad aprirsi. L'asfalto è già stato spazzato via, restano i sassi posti alla base del manto stradale, pietruzze che comunque mettono in pericolo la circolazione stradale. Addirittura nei giorni scorsi, raccontano quanti segnalano il disagio, la gomma di un'automobile ha preso una pietra che rimbalzando è arrivata a colpire la vetrata di un'attività commerciale. Non giochi di prestigio, ma cronaca di un'altra arteria cittadina che fa acqua, anzi buche, da tutte le parti. Non ne mancano di buche nemmeno lungo la strada che congiunge il parcheggio Catusi con Via Alcide dei Gasperi, strada molto transitata, non solo perché consente di accedere al parcheggio, ma anche perché rappresenta una scorciatoia per raggiungere Via Mazzini. Arteria di poche decine di metri, mai asfaltata, disseminata di buche profonde, diventate ormai con le piogge di questi giorni dei piccoli laghetti. Del problema che diversi cittadini hanno segnalato alla nostra redazione, si è fatto portavoce nei giorni scorsi il consigliere comunale Giuseppe Miglioti, che giusto oggi ha annunciato un intervento da parte di operai del Comune. Piogge permettendosi dovrebbe intervenire già domani per eliminare, sistemando le buche, l'attuale situazione di pericolo.